L'equazione di stato dei gas perfetti finora l'abbiamo scritta utilizzando questa formula P per V fratto T uguale P0 V0 fratto T0. Che cosa significa? Vuol dire che se io considero uno stato d'un gas e in quella condizione di equilibrio vado a misurare pressione volume e temperatura del gas e ne creo la combinazione P per V fratto T otterrò un numero che anche quando avrò modificato lo stato del gas ovviamente non modificando la massa del gas e quindi il numero di moli che lo compongono comunque anche dopo averlo modificato lo potrò portare in un nuovo stato caratterizzato dai parametri P0 V0 e T0 e ricalcolando questa combinazione otterrò lo stesso numero di prima. Questo suggerisce un modo per scrivere diversamente l'equazione di stato in un modo che sicuramente avrete già utilizzato nella chimica. L'idea di base è questa. Se io potessi conoscere i valori di P0, di V0 e di T0 per uno stato qualunque di un gas io potrei calcolarne questa combinazione e il valore trovato dovrebbe essere valido in qualunque altro stato del gas. Ma quali possono essere delle possibili condizioni in cui conosco tutti questi parametri? Beh, intanto bisogna definire una quantità di gas e la quantità di gas per iniziare potremmo considerarla pari ad una mole. Se io prendo una mole di gas e la sottopongo a una pressione determinata, quella ad esempio di un'atmosfera, a una temperatura nota, diciamo 0 gradi centigradi, io potrei anche conoscere che volume questo gas occupa. Infatti dice la legge d'Avogadro che una mole di gas, di qualunque gas, sotto queste condizioni standard occupa un volume di 22,4 litri. Dunque, se considero una quantità definita di gas, io sono in grado di calcolare la combinazione P0, V0 su T0. Ovviamente devo farlo nel sistema internazionale d'unità di misura, dunque devo fare alcune conversioni. Ad esempio, un'atmosfera la scriverò come 1,013 per 10 alla quinta Pascal. La temperatura non la darò in gradi Celsius, ma in Kelvin, 273,15 Kelvin. Il volume non lo darò in litri. Tra l'altro ricordo che un litro equivale a un decimetro cubo, quindi potrò portarlo facilmente in metri, dicendo che 22,4 litri equivalgono a 22,4 per 10 alla meno 3 metri cubi. Sono quindi in grado di calcolare il valore di questa combinazione P0 fratto V0, scusate, per V0 diviso T0. Andando a sostituire, vediamo che cosa ottengo. Quindi abbiamo detto 1,013 per 10 alla quinta Pascal. Per il volume, 22,4 per 10 alla meno 3 metri cubi. Diviso la temperatura, 273,15 Kelvin. Ho dovuto convertire la temperatura in gradi Kelvin perché è l'unica scala di temperatura da usare nell'equazione di Stato. Vediamo allora quanto dà il risultato di questo calcolo. Dunque, abbiamo detto 1,013 per 10 alla quinta Pascal per 22,4 per 10 alla meno 3 metri cubi diviso 273,15 Kelvin. Il risultato dà 8,307, approssimato 8,31. Quindi viene 8,31. Che cosa? Beh, sicuramente a denominatore Kelvin, a numeratore Pascal per metro cubo. Ricordando che il Pascal per metro cubo equivale a newton su metro quadro per metro cubo, quindi equivale a newton per metro che è il joule. Allora, ricordando questa cosa, il numeratore si misurerà in joule. Quest'unità di misura è ancora incompleta, mancherà qualcosa qua, ma per il momento aspetto a completarlo. Dunque, in condizioni standard, la combinazione P0, V0 fratto T0 ha questo valore. A questo valore potrei dare un nome, lo chiameremo R, e prenderà il nome di costante dei gas perfetti. Quindi la costante R dei gas perfetti vale 8,31 con le relative unità di misura. Come posso scrivere allora l'equazione di stato? La posso scrivere in questo modo. P per V fratto T uguale R, questa costante. Però attenzione, tutto questo valeva soltanto nel caso di una mole. Cosa succede se ho a che fare con più moli? Beh, la chimica ci insegna che se ho a che vedere non con una, ma con due moli, allora il volume occupato dal gas non è soltanto 22,4, ma è il doppio di 22,4. Dunque, se io ripetessi tutto il calcolo con due moli, il risultato non verrebbe quello di prima, ma verrebbe il doppio. Se lo ripetessi con tre moli, mettendo tre moli qua, il volume occupato sarebbe tre volte tanto, e il risultato del calcolo diventerebbe tre volte più grande. In definitiva, io posso scrivere che P per V fratto T rimane uguale a R se ho a che fare con una mole di gas. P per V fratto T viene uguale a 2R se ho a che fare con due moli di gas. P per V fratto T è uguale a 3R se ho a che vedere con tre moli di gas. Insomma, generalizzando, P per V fratto T è uguale a NR se ho a che vedere con n moli di gas. Ed ecco la formulazione molto frequente in chimica dell'equazione di stato che dice P per V uguale a NR per T dove n è il numero di moli del gas. Una precisazione allora adesso sull'unità di misura di R. Ci eravamo fermati dicendo che R valeva 8,31 Joule fratto Kelvin. Però, attenzione, si riferiva al tutto a una mole. Se guardiamo la coerenza dimensionale di questa relazione vediamo che il valore di R è in realtà da considerare 8,31 Joule fratto Kelvin per mole. Quindi, riepilogando, abbiamo adesso due forme in cui scrivere l'equazione di stato. La classica P per V fratto T uguale a costante o questa più dettagliata P per V uguale a NRT che ci fa capire anche l'influenza della quantità del gas quindi, se vogliamo, della sua massa attraverso la presenza del numero di moli.